Dalla 9 all'11 ottobre la Regione Abruzzo parteciperà alla 61esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo su scala mondiale. Si tratta di un vero e proprio laboratorio di idee per gli operatori del settore, fonte di informazione in cui si possono intercettare le nuove tendenze 2025 e le innovazioni più importanti in ambito turistico. L'Abruzzo partecipa al TTG quest'anno con 30 operatori, sicuramente il TTG la manifestazione più importante da un punto di vista turistico insieme alla BIT partecipa con delle buone prospettive, continua il lavoro di promozione della nostra Regione che ci sta dando tante soddisfazioni e quindi l'Abruzzo sarà presente con i propri operatori più rappresentativi a questa manifestazione così importante. Uno stand di circa 200 metri quadri riservato agli operatori, i 30 operatori abruzzesi che saranno al seguito e che permetterà di promuovere tutte le bellezze dell'Abruzzo e soprattutto gli operatori avranno la possibilità di intercettare tour operator mondiali per promuovere ancora di più la nostra Regione. Anche quest'anno al TTG di Rimini la Regione Abruzzo collaborerà e sarà al fianco con le Camere di Commercio di Chieti, Pescara e del Gran Sasso, Terramol'Aquila. Il TTG è sempre un evento molto importante per il settore e per tutto il comparto turistico e quindi noi come Regione Abruzzo e come Camere di Commercio siamo presenti con uno stand piuttosto ampio proprio per dare voce e spazio a tutti gli operatori per far sì che vendano il prodotto Abruzzo e la Regione sta tenendo i numeri rispetto anche allo scorso anno diciamo di presenza e più o meno siamo in linea ovviamente l'obiettivo è quello di crescere ulteriormente. Noi abbiamo bisogno ancora di fare molto sul turismo abbiamo bisogno di crescere in modo particolare come numero di posti letto che il numero che abbiamo a mio avviso sono sicuramente insufficienti per parlare dell'industria del turismo e partecipare a Rimini significa avere opportunità di conoscenza e opportunità di incontri e tutto ciò che serve ad arricchire e anche a creare quella voglia agli imprenditori del settore a crescere.